Siamo al Palatrento ed eccoci qua di nuovo con Jan Stoker, appena tornato dalla Repubblica Ceca. Bentornato Jan. Grazie mille, sono molto contento che posso cominciare altro periodo con Trentino Volley. È stata un'estate lunga, hai provato a qualificarti per le Olimpiadi, hai ottenuto la qualificazione agli Europei 2013 e hai anche giocato come schiacciatore, abbiamo visto. Sì, ho giocato come posto solo a qualificazione per Olimpiadi, ma mi dispiace tanto perché mancava poco contro Cuba, contro Germania, potevamo anche qualificarci, quindi era un po' triste, ma poi per la qualificazione per Europei sono molto contento anche quando ho giocato su posto 4, ma siamo qualificati, quindi tutti sono contenti in Cecchia. Adesso ho subito una nuova stagione con la Trentino Volley, cosa ti aspetti, inevitabile chiederti da questa nuova stagione a Trento? No, io ho visto la programma due settimane fa, quindi quando ho visto tante partite, questo programma molto stretta, con tante manifestazioni come mondiali per club, supercoppa subito in primo mese, sarà molto dura. Sarà molto dura, ma sarà anche molto stimolante, c'è uno scudetto da inseguire di nuovo, c'è la Coppa Italia, il mondiale per club che arriva subito e per iniziare la Supercoppa italiana. Sì, certo, sono molto emotivato quest'anno, quindi speriamo bene. L'ultima battuta sulla nuova squadra, ritrovi Sintini, ma ritrovi anche tanti altri compagni, è cambiata poco quest'età di Ertek. Mi sembra molto bello trovare tutti i ragazzi come l'anno scorso, poi ci sono altri ragazzi come Jake Sintini e poi anche Stefano Kertiansky che io conosco solo poco, ma possiamo parlare con stessa lingua.